Il Natale 2020, quello che verrà ricordato per l'emergenza sanitaria e le regole stringenti, è arrivato prima nelle nostre case e mai come quest'anno anche i VIP hanno anticipato le decorazioni natalizie e si sono preparati alla grande. Tra le professioniste del Natale c'è sicuramente Federica Panicucci, una vera e propria guru delle decorazioni che a casa sua sfoggia ben tre alberi diversi, uno è nella cameretta dei figli Sofia e Mattia. Stesso albero ma un nuovo amore per Belen Rodriguez che quest'anno ha al suo fianco Antonino Spinalbese, la bella argentina ovviamente ha decorato la bete insieme al figlio Santiago. Non vedeva l'ora di fare l'albero una volta uscita dal grande fratello VIP Elisabetta Gregoraci che si prepara a trascorrere le feste a Monte Carlo, rigorosamente in famiglia con sorelle e nipoti. Grandissimo stile, come sempre per Chiara Ferragni e Fedez, quest'anno sotto l'albero c'è anche la cicogna che a marzo porterà una sorellina al piccolo leone. Melissa Satta invece trascorre le feste da mamma single dopo la separazione da Boateng, ma l'albero preparato con il figlio Maddox è davvero pieno di decorazioni. Brutte notizie invece per Giorgia Palmas, impaziente di trascorrere le feste con la figlia Sofia, il compagno Filippo Magnini e la piccola mia di tre mesi. Il nuotatore al covid dovrà stare in isolamento, ma Giorgia festeggerà lo stesso i primi tre mesi della piccola, nata lo scorso 25 settembre.